Siamo al monastero di San Giovanni Terrestis, il monastero è stato fondato nel 1100 da tre monaci di stilo che si chiamavano Gerasimo, Bartolomeo e Pancrazio. Questi tre monaci hanno costruito questo monastero nell'onore di San Giovanni Terrestis. In Calabria sono attualmente circa 30.000 ortodossi romeni, c'è un solo monastero, questo di San Giovanni Terrestis e ci sono ancora quattro parrocchie ortodossi romeni in Calabria. Nella chiesa ortodossa ogni paese ha il suo patriarca, anche in Italia abbiamo un vescovo, il nostro patriarca è a Bucarest, poi il nostro vescovo che è in Italia è a Roma, il vescovo Siloan. in Italia sono circa 2 milioni di romeni, qui nel 2008 il comune di Vivongi ci ha chiamato qui per abitare questo monastero. Arrivano di solito soprattutto i romeni e poi ci sono anche, vengono anche qualche persona dalla Russia, delle comunità russi, dei ucraini o altre comunità ortodossi che si trovano in Calabria.